Isernia ospita 15 artisti da tutta Italia per il PACI, premio Auditorium Città di Isernia, il progetto artistico e culturale di settembre che quest'anno ha come tema il rapporto tra centro e periferia. La nona edizione inaugurata all'Auditorium ha l'obiettivo di esaltare zone dimenticate della città e di mostrare con le opere d'arte la propria appartenenza alla terra d'origine. Questa mostra tra le varie multiformi che ci sono di sculture che si modellano, che danzano, che vibrano nello spazio, esposizioni pittoriche, installazioni, architetture, qual è il tema di questa nona edizione? Centro, periferia, si vuole aumentare quella che è la conoscenza, quella che è la crescita culturale in ognuno di noi e questo forse è l'obiettivo più importante che racchiude la parola arte. Il tentativo è quello di dare attraverso l'arte un messaggio di fiducia nel futuro, spiega Antonio Pallotta, direttore artistico della mostra. Il tentativo è proprio quello di veicolare un messaggio in un'epoca di passioni tristi, di futuro senza troppe speranze, di sconvolgimenti frequenti. Eventi come questi restituiscono forse un po' di fiducia, perché nonostante tutte le brutture che ci affliggono si sforzano ancora di misurarsi con l'arte, con la poesia, con la bellezza. L'edizione critica del premio è di gioia cativa Carmen D'Antonino e Silvia Valente e sarà possibile visitare la mostra fino al 30 settembre.